questo che è forte eh? ho male agli occhi non guardare ho male agli occhi eh? ma ditemi cosa vedete ma ditemi cosa vedete guardate negli occhi eh? pitti cash mtf ah no è vero che dovevi prendere così quindi ne dico sempre to v v 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 19 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 No, 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 no. Yeah!